Prima del convegno, femmine di due anni sul miglio, sono in undici, sette in prima, quattro in seconda fila. Molto interessante questa Sheva Vic, una donata a nove, rocchi puntati, sulla lieve di Romanelli, lei la più gettonata. Mezzo meccanico a 200 prima dello stacco, allineamento che va a completarsi. Arretrata con cautela proprio la targata a Vic, arretrata anche Sofia numero 7. Via la macchina in velocità. E lotta serrata per il comando, il 3 di galoppo, Selvatica, rientra bene Saturnia, ma a largo c'è Maisto con la sua allieva, cioè Selvaggia Caff, passa insieme sulla jet e le due prendono leggero vantaggio. 14 è uno spicciolo in lancio, insiste Maisto con la sua targata a Caff, freeway con un po' di spesa e intanto si ingamba la lieva di Romanelli. Completamento della prima curva, 400 se ne vanno in 30 e mezzo, ora a grado a GP con la sua targata Caff, nei confronti di sulla jet che passa dopo 600 metri. Si migliora la sceva Vic, 600 in 46 e 2, la sceva si trascina Sofia, cavalle sulla penultima curva, si forma una seconda fila a largo e la lieva di Romanelli va a coprire quella di Maisto e ce la sceva copre la Selvaggia. Al comando Morgan di Nardo, uno tre e mezzo, con sulla jet, prosegue la donato a Nover e va a sollecitare la sulla jet, allunga e si distende la targata jet, chilometro chiuso nell'ordine del 18.615, tondo tondo ma molto tondo la frazione di fronte, lungo e birillo e sempre la Selvaggia, curva finale, per il momento tiene a bada l'avversario e l'allieva di Di Nardo che allunga, frazione in 14 e 7, 29 e 7, notevole di fronte, scappa via un po' a palo lontano Gaetano Di Nardo con la sua jet, allarga la favorita Sceva Vic, Torna Sceva Vic, ma l'allieva di Di Nardo allunga, si riprovvone Romanelli e la sua donata a Nover, lotta serrata, la classe non è acqua, e sul traguardo le due perfettamente apparigliate ed è l'allieva di Romanelli, la donata a Nover, che si afferma. Terzo e numero 7 di Sofia Griff, due e tre e mezzo, niente male sul mio cronometro, la classe non è acqua, questa donata a Nover e la jet di Di Nardo hanno dato vita in retta d'arrivo, veramente è una lotta molto molto impressionante. Si afferma di poco, lasceva a jet questa elegante donata, ma sulla jet questa naglò esce a testa alta in questo match. Per il terzo Sofia Griff, una Ganymede con Giorginio, porta a casa la terza moneta, i numeri 6, 4, 7, la donata a Nover sugli scudi, chiude 1,49 la sua quota. Linea alla regia.